Ora alla Spezia per parlare di jazz, Marco Bartolini. A solo 25 anni ma è uno dei più talentuosi batteristi jazz italiani. Matteo Cidale è nato alla Spezia, le bacchette tra le mani dall'età di 3 anni. Da tempo vive a Roma, dove oltre a suonare con artisti di fama internazionale è diventato uno dei più giovani direttori artistici della scena jazz. Per una sera sul piccolo palco della loggia dei banchi, alla Spezia, insieme a Diego Piuscitelli e Renzo Telloli, un ritorno a casa e alle origini. Questo luogo è dove ho un po' debuttato e dove ho dato i miei primi colpi sui tamburi. Poi ci sono ritornato ovviamente con nomi grossi del jazz, come Tato Moroni e Massimo Morigoni. E quindi è un luogo a me molto caro. A che punto è la scena jazz spezzina rispetto a quella romana ad esempio? Beh, comunque sia la scena jazz spezzina pullula veramente di grandi talenti, di grandi personaggi del jazz locale e non solo. E comunque sia appunto ha 45 anni di storia del jazz, dove insomma il palco del festival è stato calcato dai migliori, insomma dai più grandi. e di più grandi.